Diciamo che sono un po' stupita da questa polemica perché si tratta di un qualcosa che noi facciamo spesso, di giocare con le immagini, con le foto, quindi come dicevo anche questa mattina abbiamo diverse versioni di diverse foto che abbiamo fatto che utilizziamo tra noi per scherzare e ridere tra noi. In questo caso si tratta della mia foto di copertina ed è una foto a cui tengo molto perché è l'unica foto che ho con Beppe Grillo e non mi capita spesso di fare foto con Grillo, quindi ci tenevo a mantenerla sulla mia copertina. D'altra parte credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che questa persona, Stefania Bazzella, ha scelto di uscire dal nostro gruppo. È una scelta che mi ha intanto lasciata stupefatta perché non me l'aspettavo, è stata una scelta improvvisa che ci è arrivata tra capo e collo senza motivazioni. Nei giorni successivi abbiamo visto su varie testate riportare delle accuse veramente gravissime nei nostri confronti, in particolare nei miei confronti, accuse di mobbing, di discriminazione cui non abbiamo voluto rispondere perché riteniamo che ognuno debba rendere conto a se stesso alla fine delle sue azioni. Noi continuiamo a lavorare in assoluta tranquillità e a testa alta. Sì, tra l'altro noi scherziamo sempre perché quasi tutti noi veniamo male in foto e quindi abbiamo tra l'altro un ufficio comunicazione, un ufficio grafico molto vitale e propositivo e poi siamo un ufficio veramente dove oltre a lavorare bene insieme ci divertiamo e quindi molto spesso sulle nostre chat girano queste foto ritoccate, dicevo c'era per l'appunto una del collega Mighetti, spero non si offenda se lo dico, con una cresta da rocabilli proprio su quella foto lì. Quindi è un qualcosa di ironico, noi scherziamo spesso con le immagini poi sono immagini che a volte rimangono tra noi, quell'immagine lì io l'ho messa sulla copertina proprio perché non ci vedevo nulla di particolarmente simbolico, nel senso che di fatto Stefania non fa più purtroppo parte del nostro gruppo e Beppe rimane per me una persona importantissima e quindi quella foto continua a rimanere diciamo importante per me.